Cosa stai facendo? È fubo Ma non stai fumando, tu stai mettendo in bocca una... Che cos'è quella? È una sigaretta elettronica Una sigaretta elettronica Molto strana Sì, è fallica C'è droga dentro Non c'è droga Sarebbe un'esperienza che io non ho mai provato Ah, perfetto Vuoi farti una canna? Guarda, ci ho pensato ai 50 anni Avere Fabio Fazio che si fa una canna qua è tipo Elon Musk da Joe Rogan Ma non è... Sì, mi rendo conto ma non... Ho pensato che sarebbe ridicolo Ti dico, ci ho pensato ai 50 anni Ok, se vuoi io ho l'erba qua Siamo attrezzati, guarda Se ti dico, non ne dubitavo Ma non solo quella, abbiamo il catalogo completo Se abbiamo un listino Quello che vuoi Ormai è tardi, ragazzi